Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Io da Presidente di Regione sono stata altrettanto sensibile alla questione degli istituti tecnici, per esempio feci una cosa della quale vado molto orgogliosa, decisi di invertire un po' quello che era il trend di cultura dentro la Regione. I Presidenti di Regione prima di me portavano per esempio ad Auschwitz nei campi di concentramento, quindi per vivere la storia, soltanto ragazzi dei licei. Io decisi invece di portare ragazzi dell'istituto tecnico e le posso dire che qualche giorno fa sono salita in un taxi e questo ragazzo mi ringraziava perché mi ha fatto vedere le foto, era con me in quel campo di concentramento. Lo dico perché a un certo punto invece si è pensato che la scuola dovesse in qualche modo selezionare e quindi alcuni erano privilegiati per andare al liceo. Io ricordo a un certo punto che la scuola di mia figlia fecero la proposta di portare solamente in quei viaggi solamente i ragazzi più bravi. Esatto e questo non va bene perché poi si continua ad investire e soprattutto quando si va negli istituti tecnici, oggi purtroppo per quello che è un po' la convinzione generale del paese culturale, si trovano ragazzi che molto spesso vengono da famiglie meno abbienti, quindi non sono meno bravi, hanno meno opportunità. Invece io penso che le istituzioni devono dargli e mi lasci anche dire che io sono figlia di un fabbro. E poi ho avuto un secondo papà perché mio padre è morto che era un agronomo, uno dei migliori e dei più bravi quando l'ho conosciuto io, che mi ha sempre insegnato quello che bisognava fare rispetto all'agricoltura e soprattutto mi ha fatto guardare all'agricoltura come ad un mondo straordinario, in un paese straordinario come il nostro, che non è grandissimo rispetto ormai a tanti altri paesi che si avvicinano a questo mondo, ma che ha, come dire, qualcosa che negli altri paesi non c'è. E quindi da questo punto di vista io condivido pienamente quello che ha fatto la Presidente Meloni e soprattutto condivido l'idea appunto di spazzare un po' il campo da questa selettività che noi abbiamo imposto alle famiglie italiane negli ultimi anni. E magari attraverso questo possiamo ridare anche, qui ci sono delle imprenditrici, delle persone più formate che possano, come dire, occuparsi appunto del nostro tessuto produttivo.